il minotauro nell'antica città di trezene viveva molto ma molto tempo fa un fanciullo per nome teseo il quale era figlio della figlia del saggio re pitteo sovrano del paese il ragazzo venne educato nel palazzo reale e poiché era d'ingegno vivace non poté fare a meno di trarre profitto dagli insegnamenti del nonno la mamma sua si chiamava etra il padre teseo non lo aveva mai conosciuto ma fino dalla più tenera età la mamma soleva condurlo in un bosco dove si mettevano a sedere sopra una balza affondata nel suolo tutta coperta di muschio ivi ella parlava al bambino del padre gli diceva che si chiamava egeo che era un gran re che governava l'attica che dimorava in atene la città più famosa del mondo al fanciullo piaceva di sentir parlare del re egeo e spesso domandava alla mamma perché non veniva a vivere insieme con loro a trezene ah figlio mio caro rispondeva etra sospirando un monarca deve pensare al suo popolo i sudditi fanno per lui le veci della famiglia e di rado un re può aver tempo di amare i propri figli come gli altri genitori il tuo babbo non potrà mai lasciare il regno per venire a stare con te bambino mio mamma cara diceva il ragazzo perché non posso andare io nella famosa città di atene e dire al re egeo che sono suo figlio questo potrà essere in seguito rispondeva etra abbi pazienza e vedrai ancora non sei abbastanza grande né forte per mettere in esecuzione un tale progetto e quando sarò grande e forte insisteva teseo sei ancora un ragazzo replicava la madre guarda se ti riesce di alzare questo masso su cui siamo a sedere l'omino aveva una grande fiducia nella sua forza e abbrancando le rozze protuberanze della roccia la tirava tutta possa e si affaticava rimanendo quasi senza fiato ma senza poter smuovere la pietra pesante che sembrava barbicata al suolo non fa meraviglia che fosse così poiché solamente un uomo robustissimo avrebbe avuto la forza di sollevare il macigno la madre con un mesto sorriso sulle labbra e negli occhi osservava gli sforzi zelanti e meschini del fanciullo dispiacente di vederlo già così bramoso di cominciare le avventure nel mondo intendi bene mio caro teseo essa diceva tu devi avere molta più forza di quella che hai ora prima di poter andare ad atene e dire al re egeo che sei figlio suo quando potrai sollevare questo masso e mi farai vedere che cosa c'è nascosto sotto ti darò il permesso di partire te lo prometto dopo questi discorsi spesse volte teseo domandava alla madre se era giunto il momento di andare ad atene e la madre sempre indicava la roccia dicendogli che per molti anni ancora non avrebbe potuto muoverla e sempre sempre il ragazzo dalle guance rosee dalla testa ricciuta tirava e sforzava l'enorme masso di pietra tentando di fare giovane com'era ciò che un gigante non sarebbe stato in grado di compiere senza servirsi di tutte e due le mani insieme e la rupe sembrava affondasse più giù e più giù nel terreno il muschio cresceva più fitto e più fitto finché non apparve alla vista che un soffice sedile d'erba con poche prominenze grigie di granito sporgenti qua e là dal macigno cosparso nell'autunno di foglie scure che cadevano dagli alberi soprastanti alla base crescevano felci e fiori selvatici che si arrampicavano sulla superficie della roccia la quale sembrava addirittura attaccata alla terra ma per quanto difficile paresse la cosa teseo diventando ogni giorno più vigoroso pensava che il momento in cui egli potrebbe vincere quell'immenso blocco di pietra non tarderebbe a venire mamma mi pare che si sia smosso gridò un giorno dopo uno dei soliti tentativi la terra intorno ha scricchiolato no no bambino mio rispose pronta la madre non è possibile che tu lo abbia smosso sei ancora troppo giovane e sebbene il giovinetto mostrasse il luogo dove lo stelo di un fiore era stato portato via dalla radice per il movimento della roccia etra non volle persuadersi e sospirava ed era inquieta poiché certo cominciava a comprendere che il figlio non era più un bambino e che ben presto avrebbe dovuto mandarlo incontro ai pericoli e agli affanni del mondo non era passato un anno che la madre e il figlio sedevano di nuovo sopra la pietra ricoperta di muschio etra aveva ripetuto un'altra volta ancora la storia di egeo e diceva con quanta contentezza il re avrebbe ricevuto il figlio nel suo splendido palazzo e come avrebbe presentato ai cortigiani e al popolo l'erede dei suoi domini gli occhi del giovinetto brillavano di entusiasmo e a stento egli poteva stare quieto ad ascoltare la madre mamma cara esclamò non mi sono mai sentito così forte come ora non sono più un bambino né un ragazzo né un giovinetto mi sento un uomo è tempo di vedere se posso muovere la pietra ah teseo mio replicò la madre ancora no ancora no sì madre mia disse il giovane risoluto è venuto il momento e si pose seriamente al lavoro egli vi si accaniva con forza virile con risolutezza mise in opera tutto il suo coraggio egli lottava con la pietra enorme e grave come se fosse stata un nemico vitale ansava si sforzava a sollevare il masso era deciso a riuscire o a morire sulla roccia che sarebbe stata il suo monumento sepolcrale etra lo guardava congiungendo le mani con orgoglio di madre ma anche con angoscia di madre la roccia immensa si era mossa sì si era sollevata dal letto di muschio e di terra sradicando arbusti e fiori e giaceva per lato teseo aveva vinto mentre riprendeva fiato guardò contento la madre che gli sorrise con gli occhi pieni di lacrime sì teseo disse è venuto il momento in cui tu non devi più a lungo rimanere al mio fianco guarda ciò che il re egeo il tuo augusto padre ti ha lasciato sotto la pietra quando l'alzò con le braccia poderose collocando la cosa nel luogo dal quale tu hai tolto ora il masso teseo guardò e vide che la roccia era stata messa sopra una lastra che aveva nell'interno una cavità cosicché rassomigliava quasi a una cassa o a un forziere rozzo di cui il masso superiore aveva servito da coperchio dentro la cavità erano una spada con l'elsa d'oro e un paio di sandali questa era la spada di tuo padre disse etra e questi erano i suoi sandali quando egli partì per essere il re d'atene mi ordinò di trattarti come un fanciullo finché tu non avessi dato prova di essere un uomo alzando questa pietra pesante ora che hai compiuto il lavoro devi metterti i sandali per seguire le orme di tuo padre e cingerti la spada al fianco per combattere i giganti e i draghi come fece il re egeo nella sua giovinezza partirò per atene oggi stesso gridò teseo ma la madre lo persuase a rimanere ancora un giorno o due finché avesse preparato le cose necessarie per il viaggio quando il nonno il saggio re pitteo sentì che teseo intendeva di recarsi alla corte del padre lo consigliò di andare per mare e di imbarcarsi in una nave che lo avrebbe portato fino ad atene senza correre rischi e senza stancarsi le strade di terra sono piene di pericoli disse il re venerabile e sono infestate da mostri e da assassini non è prudenza che un giovinetto come teseo faccia solo un viaggio così pericoloso no no che vada per mare ma allorché teseo udì di assassini e di mostri si fece tutto orecchi e non ebbe altro desiderio che prendere la strada dove avrebbe potuto incontrarli perciò il terzo giorno disse addio al nonno ringraziandolo per le cure che aveva avute per lui e dopo aver abbracciato la madre partì lasciandola con la faccia lacrimosa per dire il vero neanche i suoi occhi erano asciutti ma egli lasciò che il sole e il vento gli tergessero le lacrime e andò avanti fieramente trastullandosi con l'elsa dorata della spada e facendo passi virili nei sandali del padre troppo ci vorrebbe a narrare tutte le avventure che seppe affrontare teseo durante il viaggio basterà dire che liberò dai ladri di cui il re piteo aveva tanta paura il paese che attraversava uno di essi un certo procuste era un mostro di cattiveria il quale si prendeva orribile gioco della povera gente che per mala sorte gli capitava tra le mani nella caverna che abitava aveva un letto dove col pretesto dell'ospitalità invitava i pellegrini a riposare ma se per disgrazia quei miseri erano più corti del letto lo scellerato li allungava a viva forza e se erano più lunghi egli spiccava loro la testa e i piedi ridendo a crepa pelle come se facesse uno scherzo da nulla perciò i viaggiatori anche se si sentivano stanchi morti non volevano andare mai a dormire nel letto di procuste grazie